Ciao a tutti, io sono Davide, oggi sono a Corogoccio, sono venuto a visitare Pamela che è mamma di nove bambini, si prende cura da solo dei suoi figli perché il marito molti anni fa l'ha abbandonata. Tre di questi bambini sono qui con me, fanno parte dei nostri progetti a Corogoccio. Prima della pandemia di coronavirus Pamela era una lavoratrice occasionale, ora non lavora e la sua condizione è terribile. Con il nostro progetto Famiglie ci prendiamo cura dei nuclei familiari come quello di Pamela che sono in una situazione insostenibile.